Nessun positivo e cinque guariti. Questo l'ultimo bilancio sul fronte dell'emergenza coronavirus in Molise. Un andamento che lascia ben sperare, anche se non fa abbassare la guardia al Hasrem, in vista soprattutto del primo allentamento del lockdown e quindi del rientro in regione di molte persone da fuori. E così, mentre il governatore Toma annuncia la quarantena obbligatoria, proprio per chi ritorna, i dati parlano di un nuovo stop della curva del contagio. Negativo al doppio tampone, un paziente di Campobasso. In precedenza era stato registrato lo stesso esito al secondo test per un paziente che dalla Gea Medica era stato trasferito alla RSA Covid di Venafro. E poi ancora, per una persona che faceva riferimento al cluster della comunità alloggio di Cerce Maggiore e per altri due pazienti di Campobasso e Termoli. Ed è ancora boom di tamponi. Nell'ultima giornata ne sono stati processati 364, complessivamente, dall'inizio della pandemia, 6.337. Buone notizie anche da Montaquila. Tutti negativi i test effettuati alla RSA Samnium. Era stato il sindaco Marciano Ricci a spendersi molto perché si procedesse in fretta, in modo da scongiurare contagi, e il risponso è stato quello sperato, nessun caso. La situazione attuale quindi vede scendere il numero dei positivi a 189. Complessivamente, dall'insorgere dell'emergenza, i casi sono 298. I pazienti ricoverati al Cardarelli sono 11, 10 in malattie infettive, 6 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia. In terapia intensiva c'è il medico di Filignano, i guariti ora sono 61, i positivi isolati a domicilio 171, mentre i soggetti in isolamento 228. Infine le USCA, le unità speciali, finora hanno proceduto a 47 visite totali tra Boiano e Venafro.